Con l'entrata in vigore del nuovo DPCM emanato dal governo, bar, locali e ristoranti si trovano nuovamente tra i protagonisti principali delle misure restrittive imposte dal decreto. Tra gli operatori del settore della ristorazione tornano quindi le preoccupazioni relative alla sopravvivenza delle proprie attività. Timori mai scomparsi a seguito del primo lockdown, il quale ha generato perdite e conseguenze economiche di rilievo per tante realtà del settore. Per l'intera categoria, la priorità ora è di avere massima chiarezza e più flessibilità sulle nuove restrizioni. Il settore di ristorazione, da questo decreto ministeriale, ne esce un po' a pezzi soprattutto per tutto quello che riguarda il wedding, per tutto quello che riguarda le feste organizzate, gli eventi. Al di là dei matrimoni ci sono cene di laurea, ci sono un sacco di eventi organizzati in cui le 30 persone diventa un limite molto blando come numero di persone. soprattutto poi non si capisce perché sono le 30 persone, anche perché la capacità di un ristorante è in proporzione a quello che sono le proprie dimensioni, non è legato ad un numero preciso. Quindi se uno ha 600 metri di locale, 30 persone sono irrilevanti. Quello che si poteva chiedere anche con un incontro era quello magari di essere un po' collaborativi, magari di non annullare tutto per questo fine settimana perché molta gente ha già messo in pista, ha già fatto acquisti, ha fatto tutto per questo fine settimana che era già impegnato. La cosa che poi colpirà la ristorazione è che un chiarimento logicamente su quello che sono alcuni aspetti, quella delle famose H24, quindi alle 24 io non posso più prendere nessuno, è un discorso, o che il locale deve essere completamente chiuso a mezzanotte perché non mi sembra giusto che qualcuno magari venga a mangiare alle 10, 10 a mezza di sera, a mezzanotte ancora prende il caffè, io lo devo prendere e devo mandarlo via. Noi cerchiamo di rispettare le regole quanto più possibile e se ci sfugge qualcosa chiediamo anche alle forze dell'ordine di aiutarci a evidenziare, adesso se sono mancanze chiaramente leggere perché io penso che la maggior parte dei locali, io parlo per loro, sia in regola con il discorso Covid ma anche con tutte le altre cose, quindi chiediamo questo aiuto e chiediamo di poter lavorare tranquillamente con una maglia un pochino più ampia di quella che ci stanno ripresentando. Confcommercio ha poi esortato il prefetto Vittorio Rapolla affinché si organizzi un incontro insieme alle forze dell'ordine per eliminare i buchi interpretativi segnalati dalla categoria. La richiesta noi l'abbiamo fatta lunedì mattina, c'è stato risposto che si attendeva l'uscita del DPCM giustamente anche perché onestamente di fare una riunione su un qualcosa che non fosse scritto era nulla. La richiesta che noi facciamo su eccellenza che si è sempre dimostrato molto disponibile e umano nei confronti degli operatori di fare un incontro con le forze dell'ordine per trovare quella collaborazione necessaria per far fronte ai buchi che ci sono all'interno del DPCM, i buchi interpretativi che sono i buchi che potrebbero dare adito a polemiche inutili. Se siamo tutti in grado di lavorare nella certa direzione siamo in grado anche di ottenere risultati sicuramente molto superiori a quello che noi ci auspichiamo anche perché il DPCM crea grossi problemi alle attività in questo momento sia a livello interpretativo sia dal punto di vista proprio logistico nel senso che non si capisce esattamente come devono lavorare. Quindi per evitare problemi successivi cerchiamo di prevenire piuttosto che curare dopo in maniera difficoltosa.